ciao a tutti collezionisti e collezioniste e benvenuti sull'ele king tv c'è tanto da vedere ragazzi ci sono tante card speciali ma soprattutto c'è la super top player quindi mi raccomando guardate il video fino all'ultimo iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video del canale il modo più semplice e gratuito per supportare il canale poi c'è la possibilità anche con l'abbonamento altrimenti ragazzi potete anche supportare il canale se volete con il cuoricino che trovate sotto il video che è una piccola donazione se volete altrimenti la cosa più importante è iscriversi al canale attivare la campanella che è il modo più gratuito e più sostanzioso per aiutare il canale e guardare i video detto questo ragazzi andiamoci a mettere tutte queste belle card nel raccoglitore queste sono quelle che vengono dal pronostico non so se l'avete visto il video nel pronostico comunque vengono dal pronostico scrivete sotto nei commenti la vostra carta preferita fra quelle che vedrete in questo video io direi di iniziare subito con la prima carta che è la numero 10 e ce l'abbiamo numero 10 quindi iniziamo con un doppione la leviamo subito numero 10 poi abbiamo la numero 21 la card numero 21 invece ci manca dei bonifazi del bologna eccolo qua poi sempre del bologna abbiamo la numero 30 che è soriano altro doppione non stiamo andando benissimo questo ce lo mi manca iniziamo un po maluccio poi abbiamo numero 58 dell'empoli ed altro doppione che è cacace della fiorentina troviamo terracciano ed è un altro doppione anche terracciano quindi niente di fatto cabral altro doppione della fiorentina mamma mia ragazzi che sfiga mamma mia ragazzi che sfiga poi andiamo all'inter dove troviamo la card numero 109 che è lo stemma e questa va bene c'è ci manca e la andiamo a mettere nel nostro raccoglitore poi abbiamo la 147 147 che ci manca eccola qui che è radu e la 150 anche questa è una carta mancante che è marcos antonio andiamo a lecce dove abbiamo la 170 che è tuia e c'è la 176 che è gargiulo e ci abbiamo anche questa poi andiamo al milan nel milan troviamo la 197 che è leao che ci manca raffaele leao eccolo qui lo andiamo ad inserire all'interno del raccoglitore dove stava la tasca stava davanti questa volta quindi leao eccolo qui poi andiamo al monza con la 213 ci manca del monza poi abbiamo della roma la 238 che è i bagnez anche questa è una carta mancante abbiamo la 241 altra mancante che è cumbula 247 altra mancante che è veretù e poi si passa alla sernitana con la 263 radovano che invece ce l'abbiamo ed è doppione bene andiamo alla samp dove abbiamo la carta di candreva che ce l'abbiamo altro doppione all'udinese dove abbiamo beccao con il numero 347 eccolo beccao altro doppione e poi andiamo con le speciali iniziamo dagli idoli allora primo idolo anzi unico idolo e questo di questo ce lo mi manca zielischi col 377 e ce l'abbiamo eccolo qua zielischi niente di fatto lo togliamo poi abbiamo il diamante abbiamo la 403 diamante ilic altro doppione mamma mia ragazzi guardate quanti doppioni in questo cielo mi manca l'altro l'altro cielo mi manca era andato molto molto bene poi abbiamo la fantastella col 439 questa ci manca che della roma che zaleschi poi abbiamo la stella 453 del milan che tu morì e per fortuna ci manca tu morì e questa ci manca per forza ragazzi perché è rafael leao col 469 che è la card super top player ecco super top player leao che è la carta più importante di questo ce lo mi manca spero che anche voi l'abbiate trovata scrivetemi sotto nei commenti che che carta avete trovato in questa collezione io questi sono i doppioni che abbiamo trovato in questa in questa giornata in questo video in questo ce lo mi manca che non sono pochi non sono per niente pochi insomma anche gli altri che abbiamo trovato sono un buon numero di doppioni ok ragazzi io intanto vi saluto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti